Ciao a tutti ragazzi, oggi vi racconto com'è andata l'Ultra Trail Chianti Castle che ho corso lo scorso weekend, una gara da 102 km con 4200 metri di slivello. Vi porto un po' dentro la gara, vi racconto un po' com'è andata, così, sensazioni a caldo, dai, iniziamo subito. Prima di partire con la gara voglio raccontarvi quello che è stato il pre-gara perché c'è un po' da ridere, nel senso che avevo preso un appartamento, una stanza, una decina di minuti da Radda in Chianti che era l'inizio della gara ed io la partenza era alle 4, alle 3 e mezza del mattino esco dall'appartamento per recarmi a Radda in Chianti. Da navigatore ci volevano 10 minuti, il fatto sta che Google Maps, non so perché, ha deciso che doveva farmi fare le strade più strane, posto in cui la macchina quasi neanche passava, alla fine 10 minuti che ci volevano ce l'ho messa in infinità e nel momento in cui sono sceso dalla macchina ho sentito lo speaker, ero a poche centinaia di metri dall'inizio della gara, ho sentito lo speaker che dicevano mancano 5 minuti all'inizio della gara. Sembra che io alla fine sono arrivato alla partenza che ne mancavano 4, forse 3 minuti. non è stato molto divertente questo, dico la verità. Però siamo partiti, siamo partiti in orario e i primi 10 km sono volati, veramente. Prima parte in discesa, tranquilla, si andava via veloci, poi tutti i primi 10 km in piano, quindi velocità abbastanza alta, siamo arrivati al primo ristoro che era passata neanche un'ora quasi, ho mangiato qualcosa e siamo ripartiti. Dal primo ristoro in poi ho iniziato a registrare un po' di clip che adesso vi mostro. Prima purtroppo non ce l'ho fatta perché era troppo buio e non riuscivo con l'attrezzatura che avevo. Però vi lascio gli clip che ho registrato in gara così vi raccontano loro un po' com'è andata. Allora sono solo esattamente al 19esimo, 18esimo chilometro e niente, va bene, va un po' freddo. Siamo in un tratto di bosco, il cino fiume è molto, molto umido. Però per il momento va bene, tutto tranquillo. Nel ristoro è andato, ho mangiato un po', adesso andiamo al secondo. Mangiamo anche al secondo, mi raccomando. E continuiamo. Il momento, la giornata è lunga, però adesso per fortuna inizia ad esserci luce. Ciao, bello. Ciao, bello. Ciao. Sono all'incirca al trentesimo chilometro. E' più di un'ora che corro da solo. Una cosa, non mi dispiace per nulla anche perché riesco a godermi il panorama attorno, quindi mi piace. E l'opposto, adesso tra 5 chilometri dovrei andare al terzo ristoro. Quindi, va bene, però va bene. E niente, continuo da solo questi bellissimi pasti. Devo dire che il panorama veramente paga tutta la fatica. Anche se in questo momento, dai, come dicevo, mi sto gestendo bene per il momento. Vedremo come prosegue. Sono al trentaseiesimo chilometro. Ho appena passato il ristoro di Broglio. Qui dietro, infatti, c'è il castello dietro di me. E inizio a farmi male un po' gli adduttori. Non so come mai. O meglio, chissà come mai. E niente, adesso magari rallento un po'. In modo tale che le gambe hanno modo di respirare un po'. Anche perché adesso tocca un tratto un po' duretto. E poi niente, adesso dovrebbe esserci l'altro ristoro di Monteluco. Tra uno decine di chilometri. E speriamo di arrivare per pranzo a Gagliole. Che dovrebbe essere un rifornimento bello grosso, così riesco a mangiare abbastanza. Una cosa da riportare, che non mi sta piacendo, dico la verità, è che su tante... Su tante... Sto sbagliando strada? No. Su tante deviazioni manca la segnaletica. Nel senso, sia io che altri sono stati costretti a tornare indietro. A certi punti non si vedeva veramente da che parte bisognava andare. Non è segnato così bene. Tanti chilometri, mi è capitato di fare anche due chilometri senza vedere neanche uno standardo, proprio non sapevo neanche se ero sul percorso. Vabbè, fortunatamente ho sempre il Garmin che mi dice se sono sul percorso o no. Almeno lui mi salva. E niente, io continuo. Come hai detto in quest'ultima clip, quando l'ho registrata ero attorno al 36, 37esimo chilometro e avevo appena passato il ristoro di Broglio. E per il momento stavo andando abbastanza tranquillo. Da lì in poi, però, complice il mal di gambe che mi stava venendo. Complice il fatto che ho sbagliato più volte strada tra Broglio e Monteluco, soprattutto sulla strada che arrivava in cima a Monteluco, beh, è iniziata una forte crisi. Una forte crisi che mi ha portato a diminuire tantissimo il passo, a mettere in dubbio anche se continuare. Questo è stato dovuto soprattutto al fatto che io avessi spinto troppo. avessi spinto troppo nella prima parte e la stavo pagando letteralmente tutta. Da Broglio a Monteluco l'ho pagata veramente, veramente tutta. Il mal di gambe è arrivato bello, bello, prepotente. Arrivato a Monteluco, intanto ho qua il mio numero di gara e sto leggendo i nomi dei ristori perché, dico, la verità non me ne ricordo. Arrivato a Monteluco, ero indeciso. Come faccio? Continuo? Non continuo? Non lo so, dico la verità. Ero veramente indeciso, avevo un fortissimo mal di gambe, avevo sbagliato più volte strada, quindi avevo anche allungato il percorso e non sapendo cosa fare, non lo so, io, dico la verità, volevo ritirarmi. Poi però ho pensato, beh, ma a Gaiola e Inchianti, dieci chilometri dopo più o meno, c'era la mia ragazza che mi aspettava. Quindi mi sono detto, dai, almeno proviamo ad arrivare là, almeno arriviamo da lei. E quindi ho trovato con bricioli di motivazione e sono andato avanti. Da Monteluco siamo saliti ancora un po' dietro il ristoro e poi è stato tutto un po' un saliscendi, tanto falso piano in discesa su una strada bianca molto, molto bella, devo dire la verità. E lì non ho corso, dico la verità, era un tratto molto corribile, non ho corso, ho preferito camminare, ma camminare mi ha dato modo di ritrovare lucidità nelle gambe, di sentire meno dolore. Non dico che il dolore fosse sparito, anzi, si era un pochino alleviato. E così sono riuscito a proseguire, tanto che sono arrivato a Gaiola e Inchianti, che ero felice, motivatissimo ad andare avanti, veramente ho detto, bene, se sono arrivato fino a qua e adesso la voglio finire questa gara, ero super motivato. E appunto quando sono arrivato al ristoro ho mangiato un po', anche perché era ora di pranzo, quindi qualche panino me lo sono mangiato, ho parlato un po' con la mia ragazza e poi boom, sono ripartito convinto che volevo arrivare all'arrivo. Ho detto io fa niente, i cancelli sono lontanissimi, ormai il tempo che volevo fare di gara era sfumato, però mi sono detto adesso io voglio arrivare, voglio arrivare, voglio arrivare. E pian piano sono andato avanti. Ristoro al 67esimo chilometro, anche lì ho mangiato un panino, un po' di mela e sono ripartito e ho registrato un'altra clip che adesso vi faccio vedere. Sono al chilometro 68, forse la crisi se n'è andata da qualche chilometro, è stata molto lunga, devo dire quasi tre ore, forse anche quattro di crisi. Bene, molto bello. E niente, adesso ho preso il mio ritmo, cammino in salita e corro in discesa. E niente, andiamo avanti così. Finché le gambe girano. Non mi posso fermare più di tanto perché se mi fermano le gambe e si raffreddano non riparto più. Quindi niente, questa è la situazione. E si continua. Fa fortuna veramente che c'è il panorama che ripaga. Anche se delle gambe nuove forse sarebbero più utili. Da qui in poi però non ho più registrato nulla, soprattutto perché veramente si stava facendo lunga, io non volevo arrivare col buio, cosa che poi purtroppo è avvenuta. E quindi ho detto, facciamo una cosa, mettiamo via la telecamera, concentriamoci e andiamo. Andiamo a correre. Corriamo e pensiamo a portarla a termine. Fatto sta che continuo a correre. Alla fine sono rimasto praticamente da solo. I ragazzi con cui ho corso un pochino li ho persi dal 67esimo chilometro in poi. E niente, qui io continuo, 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 continuo. Strada molto bella e arrivo al ristoro del 78esimo chilometro al castello di Albola, dove ritrovo di nuovo fortunatamente la mia ragazza. Qui, dico la verità, mi sono concesso anche un pannino con la soppressata, che davano come cibo al ristoro. Ed era veramente molto buono. Questo mi ha dato un sacco di morale. E complice anche che sono riuscito a scambiare due chiacchiere con la mia ragazza. Sono ripartito anche qua super, super, super motivato. Avevo ancora tanto mal di gambe, non lo nascondo, ma tanto, tanto, tanto. E infatti quando mi sono fermato al ristoro, mi sono fermato magari un po' troppo, nel senso, non dico dieci minuti, forse sette o otto, e quando sono ripartito avevo le gambe fredde e non riuscivo a camminare. Avevo tutti i muscoli bloccati, ginocchia bloccate. Ho dovuto camminare per un po', far sì che le gambe si riscaldassero, e poi sono riuscito a ripartire. E questa non è stata la prima volta che mi è successo. Mi è successo anche ai ristori precedenti. Però vabbè, gambe riscaldate, sono ripartito, e all'ottantesimo chilometro è successa una cosa che non mi è piaciuta per nulla. Nel senso che il mio ginocchio ha iniziato a cedere. Io più caricavo sul ginocchio, eravamo in salita, e quando veramente appoggiavo il peso sul ginocchio sinistro, il ginocchio sinistro cedeva, e continuavo a cedere. E la cosa non mi piaceva per nulla, era la prima volta che mi capitava, dico la verità, e non sapevo letteralmente cosa fare. Ero preoccupatissimo, perché una cosa del genere ti fa ritirare, perché comunque sinceramente io preferisco ritirarmi che spaccarmi un ginocchio, anche perché ho già avuto degli infortuni al ginocchio in passato, e so che gli infortuni al ginocchio sono lunghi anche da guarire, quindi che faccio, che non faccio. Qui ho però ripensato a quello che mi era successo ai ristori precedenti. Ho detto, cavolo, però prima mi fermavo, mi raffreddavo, mi faceva male ovunque, ho fatto la cosa meno intuitiva che si potesse fare. Ho aumentato il ritmo. Ho aumentato il ritmo soprattutto in salita, e questa è stata veramente l'idea migliore che ho avuto, perché il ginocchio ha ricominciato a scaldarsi, ha ricominciato a lavorare, e ha iniziato a riavere la sua funzione, non mi cedeva più. Tanto che alla fine sono arrivato in cima all'ultima salita, dove c'è il ristoro di San Michele, senza tanti problemi, e al ristoro di San Michele mi sono fermato proprio giusto due minuti, tempo di riempire le sofflasche, prendere un po' di frutta secca, e sono ripartito, perché non volevo fermarmi, per non diventare freddo un'altra volta, e riavere tutta la necessità di dover riscaldare le gambe, e via dicendo. Da qui è stata una lunghissima discesa, fino a tornare giù, a Radda in Chianti, di cui gli ultimi chilometri, gli ultimi chilometri sono stati, dal punto di vista psicologico, molto molto pesanti, perché io volevo arrivare, non vedevo l'ora di arrivare, all'arrivo, e continuavo ad esserci un po' di salita, un po' di discesa, un po' di salita, un po' di discesa, e quindi sono stati psicologicamente, veramente molto duri, forse psicologicamente, i più duri di tutta la gara, anche perché, non nascondo, che è arrivato al centesimo chilometro, anche le gambe erano proprio sfinite, cioè se fino a quel momento, vi facevano male, però avevo ancora energia nelle gambe, lì proprio, zero, zero, zero. Alla fine, però, ce l'ho fatta, nonostante tutto, sono arrivato, e sono straemozionato ancora, nel raccontarvelo, perché è stata una gara veramente dura, al cinquantesimo chilometro, al ristorio in Montelucco, ero davvero convintissimo che mi sarei ritirato, solo l'idea di avere la mia ragazza al ristorio successivo, mi ha portato a non ritirarmi, a provare ad andare avanti, non penso che avrei avuto altre motivazioni per andare avanti, dico la verità, penso che se non ci fosse stata lei al ristorio successivo, io mi sarei fermato, perché il mal di gambe era veramente, veramente troppo, so che il trail running è fatto anche di sofferenza, è fatto anche di dolore alle gambe, però un dolore alle gambe così forte, ma davvero così forte, cioè quasi mi stordiva, talmente era forte, e comunque va bene soffrire, ma non dobbiamo farci male, nel senso, il principio numero uno è non farsi male, e quindi non lo so, forse io mi sarei ritirato, dico la verità, non avrei portato a termine questa gara, però alla fine sono, come dicevo, sono soddisfattissimo, perché ce l'ho fatta, va bene, il tempo che mi ero dato non l'ho rispettato, però vabbè, la gara è nata così, sicuramente le prossime cercherò di gestirle meglio, e per quanto riguarda poi alimentazione, acqua, io sinceramente mi sono gestito bene, penso, ho mangiato il giusto, ho bevuto il giusto, non ho avuto fame, non ho avuto sete, mangiavo prima che mi venisse questa sensazione, perché come si sa, quando inizio a avere fame, il versetto vuol dire che sei già mezzo in crisi, e niente, quindi alla fine è andata, e infatti come vi facevo vedere prima, ho qui il mio numero di gara, il 128, che come sapete, se mi fosse ritirato, non avrei potuto tenerlo, e soprattutto ho la mia medaglia di finisher, della 100 chilometri, guardate che bella, io sono veramente super soddisfatto di questa medaglia, forse la medaglia più importante che io abbia mai vinto fino adesso, e veramente sono super felice, davvero. Ora come prosegue la stagione? Aded, in questi giorni sto facendo un po' di scarico naturalmente, per poi tornare ad allenarmi, perché a fine aprile, al 30 aprile, avrò il Ferriere Trail, il Trivalli Grand Tour, da 101 chilometri, 6.000 metri di dislivello. Perciò ragazzi, se non volete perdervi, tutta la preparazione, come andrà anche il prossimo trail, mi raccomando, seguitemi anche su Instagram, trovate il link qua sotto, per il momento io vi saluto, e ci vediamo ai prossimi video, nei prossimi giorni. Ciao! Ciao!